Prospettive del turismo enogastronomico molto, molto importanti, un settore ormai affermato, un turismo per tante persone, non più di nicchia ma direi anche di massa per certi versi, attenzione al territorio e alla tipicità e questo collegamento agricoltura-turismo è veramente essenziale e si giocherà il futuro. Su cosa si gioca il futuro? Sulla sostenibilità ambientale, si gioca tantissimo sulla qualità dei territori, sulla qualità anche della vita per i propri residenti. Non abbassare la guardia, fare promozione ma soprattutto tenere sotto controllo la qualità dell'accoglienza a livello microeconomico aziendale ma anche di tutti gli altri aspetti del territorio nel proprio complesso perché il turismo è un insieme di persone e di risorse.